Musica Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini. Oggi puntata speciale non tanto e non solo per il nostro ospite che salutiamo fra un secondo, ma perché oggi parleremo di una trasmissione di Rossini TV. Siamo con Otello Renzi, buongiorno Otello. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi ti abbiamo invitato perché siamo in prossimità di un appuntamento importante e in vista dell'inizio della messa in onda delle puntate di Masterfish. Otello Renzi, enogastronomo, sommelier esperto soprattutto e raffinatissimo conoscitore del mondo dell'enogastronomia e del mondo dei prodotti, del mondo degli abbinamenti, insomma chi più ne ha più ne metta, è il cuore pulsante di quello che è questo programma Masterfish che abbiamo inventato un paio d'anni fa e che poi dopo la pausa dovuta al Covid finalmente riparte e è in prossimità di ripartire. Beh, i protagonisti in effetti sono i prodotti perché il prodotto pesce sicuramente, anzi dovrei dire alla ristorazione ma anche alle persone, andiamo a verificare e a valorizzare il pesce di prossimità, almeno adriatico, nel senso che non andiamo a vedere che cosa c'è al di là dell'oceano o questi pesci strani che a volte ci appropignano dentro nella ristorazione o a casa. Beh, questo comunque del pesce di prossimità mi piace molto, faccio un esempio, noi sardoncini ad esempio gli sgombri, i roscioli come si dice una volta e poi soprattutto il pesce del momento, cioè del momento in cui stiamo facendo anche questa trasmissione e quindi la stagionalità anche del pesce. Magari non lo sanno tutti ma siamo abituati a pensare alla frutta di stagione, al limite alla verdura di stagione esiste anche un pesce di stagione? Sì, ad esempio io ho sentito, ecco guardate ad esempio i calamari, guardate dicevo il pesce azzurro, il pesce azzurro ricco di Omega 3 praticamente ha una, costruisce un'alimentazione su anche i bambini, io mi ricordo che avevo fatto delle riprese con dei bambini che erano entusiasti di sentire e preparare anche dei piatti con gli sgombri e con i sardoncini marinati ad esempio, con i genitori che stavano lì a guardare con occhi increduli, mangiare il pesce marinato su un crostino, un sardoncino, forse non ci avevano manco mai pensato le famiglie di proporlo. Questo è comunque anche la presentazione, anche valorizzare il nostro prodotto è molto interessante anche dentro la famiglia. Oltre a questo Masterfish ha una prerogativa, quello dell'abbinamento del vino chiaramente marchigiano e il vino marchigiano oggi sta avendo un successo di qualità, oltre che avere una prossimità, i produttori marchigiani sono quasi tutti piccoli, quindi hanno un mercato anche vicino a noi, però si stanno organizzando anche per uscire un po' fuori dalla nostra regione e far conoscere questi vini in Italia e all'estero, perché siamo arrivati a una qualità ottima. Le nostre 20 DOC e DOC G garantite, insomma, sono tutti di altissimo livello, ve lo garantisco. E questo lo stanno apprezzando, già è successo nella prima registrazione, quelli che vengono a partecipare alle registrazioni delle puntate. Spieghiamo, per quei pochi distratti che non conoscessero la formula di Masterfish, che Masterfish è un programma televisivo prodotto da Confesercenti e realizzato da Rossini TV, basato essenzialmente sulla formula tipica della gara, del contest tra due chef amatoriali. In realtà quello è lo spunto, lo spunto di partenza per costruirci sopra una trasmissione che appunto mira a valorizzare i prodotti attraverso la scelta di menù particolari, perché i menù non vengono scelti, diciamo, come può essere intuitivo, immaginare per mettere in difficoltà lo chef che deve faticare per riuscire a districarsi. No, i prodotti vengono scelti per essere, i piatti vengono scelti per essere ben cucinati, perché poi vengono proposti a un pubblico. Questo pubblico, che poi è anche giurato, paga per venire a queste cene, per cui è una serata nella quale il ristorante si mette in gioco. Ecco, questa è, diciamo, un po' la magia che si verifica ogni volta che noi facciamo una registrazione. Quest'anno c'è una piccola novità, ci tengo a sottolinearla, ed è un periodo che sta tra le registrazioni e la messa in onda. Per capirci, le puntate di Masterfish andranno in onda a partire dal 23 di novembre e andranno in onda ogni martedì. Noi, naturalmente, le stiamo registrando su una base di disponibilità degli chef, dei ristoranti, del nostro hotello. Insomma, bisogna mettere insieme diverse cose. Ne è già stata registrata una, la prima puntata, e siamo in procinto, fra due giorni, di registrare la seconda puntata. Naturalmente, al pubblico televisivo noi possiamo dire di seguire le puntate una volta che andranno in onda, ma al pubblico a casa possiamo anche dire di prenotarsi per venire a partecipare alle registrazioni, perché questo è un po' lo scopo. Diciamo che con questo mi piace dire, sai una cosa, che copriamo quel vuoto tipico invece delle trasmissioni televisive. Le trasmissioni televisive legate all'enogastronomia cosa fanno? Ti fanno vedere, ti fanno in qualche modo capire, ma non ti fanno né annusare né mangiare. Noi invece li facciamo anche mangiare. Qui la vivi, la cosa è veramente molto… e poi c'è un'armonia, c'è un'allegria, direi, in queste serate, che poi sono trasmissioni, che i cuochi e gli amatori si mettono in gioco, tutti quanti, ma vorrei ben precisare che comunque la gara è veramente tra i non professionisti, cioè il ristorante è un contenitore, è un contenitore importante, perché poi è il ristorante che propone i piatti più, magari come dicevi, più rappresentativi, ma anche i più facili da fare, e quindi queste persone veramente in cucina… ma poi alla fine, e mi piace molto dire che alla fine ci sarà un gran galà che viene fatto all'Iper Rossini e viene fatto nella parte urbino di Rossini, dove comunque c'è un bello spazio… No, per essere esatti, Spazio Conad, il ristorante con sapore di Spazio Conad. Che è uno spazio, devo dire, una volta chiuso il supermercato, diventa anche elegante. E lì ci sarà poi questa serata, che avrà come data il 14 di dicembre, e lì vedere tutti questi ristoranti, tutti questi concorrenti insieme, che impiattano uno per l'altro, si danno una mano, è una cosa bellissima. E lì si vede la professionalità dei ristoranti, si vede anche la buona volontà e veramente la voglia di fare dei concorrenti, insomma, e tanta passione. Abbiamo coinvolto a proposito di passione anche l'Istituto Santa Marta, l'Istituto Alberghiero Santa Marta, che proprio in quell'occasione si incaricherà del servizio, perché poi sarà una serata delicata, quella del 14 dicembre, ricordiamo che sarà registrata il 14 dicembre, per cui se volete partecipare prenotatevi per il 14 dicembre, ma poi andrà in onda il martedì 29 dicembre. E dicevo che sarà una serata molto importante, proprio perché avremo 5 concorrenti, perché la formula è strutturata in questo modo, ci sono 5 semifinali, nelle semifinali uno vince e uno non vince, non mi piace dire perde, uno vince e uno non vince, quello che vince passa direttamente alla finale, la finale sarà una finale a 5, per cui quella sera si mangiano 5 piatti che hanno a loro volta, ognuno di loro, vinto le rispettive finali. Prima di dare le date, perché daremo le date, adesso la prossima è proprio dopo domani, il 17 di che è mercoledì, alla baita, quindi cominciate, anzi prenotate, perché non so se c'è ancora disponibilità, prima di dare anche le altre date, volevo dire che attraverso il pesce noi valorizziamo anche i prodotti dell'entroterra, cioè un abbinamento, oltre che col vino, un abbinamento che si fa ad esempio con lo zafferano, con il farro, con le barbecche, vi ricordate cosa sono le barbecche di Pesaro? Lo diremo in quelle serate, e comunque ad esempio con i legumi, con il cece, tutto comunque fa parte di questo periodo, e la valorizzazione di questo periodo avviene sia attraverso il pesce, come dicevo, ma anche i prodotti stagionali del periodo. Tutti insieme abbiamo una storia, noi nella nostra provincia, e anche nella nostra regione, dell'abbinamento pesce e legumi, pesce ed erbe aromatiche. Pensiamo solo a Metauriglia, ad esempio, dove c'erano qualcosa ancora, le case dei pescatori che avevano davanti la barca e l'uomo andava a pescare, e dietro l'orto che curava la famiglia, e una volta che il pesce arrivava a quello più scarto, lo abbinavano proprio, perché ce n'era di meno, comunque lo abbinavano ai prodotti dell'orto. Ecco, questa è una storia che viene dalla fine dell'Ottocento, e noi lo riproponiamo anche questo nelle nostre serate. Le ultime date che ci sono... Volevo sottolineare che tu hai fatto un lavoro eccezionale nel contattare e concordare con i ristoranti, perché chiaramente è stato un lavoro certosino. Innanzitutto farsi venire in mente quelli che potrebbero essere ristoranti, con i quali instaurare un discorso comprensibile, perché chiaramente questa proposta nuova di Master Fish, per quanto alla seconda stagione, non è una proposta che può essere considerata ormai consolidata, al punto che i ristoranti accettano al volo. E poi, per cui, prima capire l'interlocutore giusto, poi trovare le disponibilità, perché sono tantissime le manifestazioni che coinvolgono in questo periodo i ristoranti. Ci troviamo in un momento fortunatamente di rilancio. Insomma, il tuo lavoro è stato un lavoro molto, molto preciso, puntuale e anche difficile, ma ci sei riuscito. Ti ringrazio, perché non era facile, non è stato facile. Comunque io da subito ho puntato in alto, cioè la migliore, credo che ci sia in queste serate una delle migliori ristorazioni regionali, è sicuramente un alto livello pesarese, dove i ristoranti si esprimono al meglio e sentirete delle cose che magari non avete mai sentito, anche in quel ristorante, perché c'è stato un connubio mio, della mia esperienza, con la ristorazione e soprattutto anche gli abbinamenti che sono degli alimenti di terra, di mare e di vino. È una cosa molto interessante. Direi le date che arrivano, martedì, quindi dopo domani, il 17 novembre, alla Baita, saremo martedì 30 novembre, ristorante Gibas, sulla panoramica San Bartolo, e poi giovedì 2 dicembre ristorante La Canonica, siamo a Castel di Mezzo, e per finire il 6 dicembre ristorante Lo Scudiero e così in pratica abbiamo chiuso i 5 ristoranti, i 10 concorrenti. Ricordiamo che il primo è stato in settima fila, il quale abbiamo già registrato. Bisogna citare, ha fatto dei piatti straordinari il 2 di novembre, e quindi tutti i 5 ristoranti si metteranno in gioco questa finale, ripeto, del 14 dicembre, martedì, e cominciate a telefonare. Come notate, appunto, quello che avevo anticipato prima, c'è una certa distanza tra il momento in cui viene registrata la puntata e il momento in cui va in onda. Ci eravamo posti il problema soprattutto nella prima edizione, perché ovviamente il gioco sta in piedi soprattutto sulla base della voglia di tutti quelli che partecipano alla serata dal vivo di stare al gioco della televisione. Per capirci, se il vincitore o il non vincitore pubblicano un post, ci bruciano un po' la notizia e la particolarità della puntata. Abbiamo ottenuto, già sperimentato nella scorsa stagione, ottenuto quest'anno l'impegno da parte di tutti alle bocche cucite, a non farsi sfuggire nessuna indiscrezione, noi per primi, per cui vi garantiamo da una parte delle serate straordinarie, dal vivo con i profumi e i sapori, e dall'altra delle straordinarie serate televisive nelle quali riproporremo tutto quello che succede nella serata con l'aggiunta della possibilità del dono dell'ubiquità che dà la televisione, ovvero quando si è lì si aspetta che arrivi la portata e la si mangia e va benissimo. Ma quando la si guarda in televisione si scopre anche cosa sta succedendo in cucina, si vede la piccola particolarità, la piccola curiosità, si ascoltano le interviste con i protagonisti, insomma diciamo che il mix vincente sarebbe partecipare a tutte le serate e poi guardare tutte le puntate. Sì, anche perché durante la serata, sapete, non ci sono solo i due piatti che vengono verificati e a un certo punto valutati, ma ristorante che comunque vogliono fare una buona figura, ci sarà un'entrata, ci sarà poi anche qualcosa di particolare, mi ricordo adesso abbiamo sentito il fegato di Coda di Rospo ad esempio, che non sentivo più da anni e poi ci sarà anche un dolce finale, in pratica è una cena, ma ecco, ripeto, sono due i piatti da valorizzare e da votare. Bene, allora, più o meno abbiamo concluso, ricordando che poi la serata finale si svolge appunto al ristorante Consapore dei Spazio Conad del Rossini Center in via Gagarin, vi invitiamo a seguire comunque tutti gli spot che noi proponiamo con i numeri di telefono di riferimento per prenotare e a farvi già un'idea di quale o quali date potrebbero fare al caso vostro, ricordando che poi diventate anche in qualche modo partecipanti protagonisti di una puntata televisiva. Noi ci siamo voluti un po' allungare su questo tema di Masterfish perché ci tenevamo a sottolinearlo e spiegarlo, ma quello che mi è piaciuto molto e che mi piace sempre tanto è ospitare Otello Renzi che con la sua, è un pozzo di scienza, diciamocelo, ci racconta. No, cultura gastronomica significa anche lo stare tavola, significa bonton, cioè dobbiamo un po' avere questa rivalutazione del stare insieme dopo quello che abbiamo passato e comunque dobbiamo veramente avere la voglia di vederci e di degustare, non diciamo mangiare, degustare. Ecco, e con questo io non aggiungo altro perché rovinerei qualunque cosa facendo qualunque tipo di aggiunta, ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e li invito ancora una volta a partecipare alle nostre registrazioni di Masterfish e a seguire le puntate quando andrà in onda, ringrazio anche Otello per tutto il lavoro che ha fatto nella preparazione di Masterfish e per essere stato così gentile da venircelo a raccontare oggi. Ricordo a tutti che la nostra trasmissione Casa Rossini è una trasmissione che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19 in prima messa in onda e poi a seguire alle 23 e poi con un paio di repliche il giorno successivo. Vi invito a restare sempre comunque in visione dei programmi di Rossini TV vi auguro comunque una buona giornata e l'appuntamento è alla prossima puntata. Grazie Otello. Grazie a voi. Grazie a voi.